Sei in ascolto di RDA Radio 1 Circuito Spreaker, dal tuo motore di ricerca. Puoi trovarci con un solo clic sul tuo pc, digitando www.spreaker.com slash user slash Roberto De Angelis. Musica, attualità e molto di più. RDA Radio 1 Circuito Spreaker, la tua radio web. Buonasera da Marina Di Stefano ed eccoci di nuovo insieme con la nostra ricettina del benessere. Questa sera vi propongo una ricetta, tutto sommato, abbastanza famosa, abbastanza nota. Magari ci soffermeremo a vedere quali sono le qualità specifiche del piatto che appunto ci aggiungiamo a raccontare. Allora, si tratta di una semplice insalata di pollo e quindi cominciamo dagli ingredienti per 4 persone. 1 mezzo pollo arrosto, 120 g di insalata verde, 300 g di pomodorini, 1 o 2 peperoni, olio extravergine d'oliva, sale e pepe. Allora, lavate i pomodorini e tagliateli a spicchi. Poi lavate il peperone, tagliate i semi e i filamenti e riducetelo a striscioline. Tagliate anche il pollo a tocchetti dopo aver eliminato la pelle. Unite in una zuppiera il pollo, l'insalata, i pomodorini e il peperone, condito con olio extravergine d'oliva, sale e pepe. E aggiungete a piacimento un paio di cucchiai di senape. Mescolate bene e portate in tavola. Andiamo a ricordare che la carne di pollo è facilmente digenibile ed è indicata nelle diete per il suo basso contenuto di grassi. Grazie agli ascoltatori di SAP Radio vi do appuntamento alla nostra prossima ricetta. E buonasera. Sei in ascolto di RDA Radio 1. Circuito Spreaker dal tuo motore di ricerca. Puoi trovarci con un solo clic sul tuo pc digitando www.spreaker.com slash user slash Roberto De Angelis. Musica, attualità e molto di più. RDA Radio 1 Circuito Spreaker. La tua radio web. La tua radio web.